Questa demperlanza tratta un problema che spesso è presente nelle valli, il fatto che per raggiungere la città capoluogo, il centro della provincia dove spesso le persone si recano a lavorare, o piuttosto al contrario quando invece le persone si recano per turismo, per lavoro nelle valli, si passa nei paesi mettendo rischio l'incolumità delle persone, dei bambini che escono da scuola, aumentando il traffico, aumentando l'inquinamento dei paesi. Per questo nel 2010 era stata pensata, per quanto riguarda la Val Brembana, la variante di Zogno, che viene commissionata da Regione Lombardia con la provincia di Bergamo, partecipa alla gara e vince i tinere SPA con un ribasso del 35% sui 68 milioni di bando di gara, quindi parliamo di circa 44 milioni, iniziano i lavori nel 2012, vanno avanti, l'opera doveva essere conclusa entro il 2014, cosa che poi non è stata, ma già nel maggio 2013 l'assessore del Tenno, l'allora l'assessore del Tenno ci aveva garantito una chiusura, una posticipazione, ma una chiusura entro febbraio 2015, quindi un'inaugurazione imminente. A settembre 2014 veniamo a sapere che l'itinere SPA stava abbandonando e ha abbandonato i cantieri perché aveva utilizzato tutti i 44 milioni messi a disposizione dall'amministrazione pubblica per la realizzazione dell'opera come da gara d'appalto, siccome c'erano state delle problematiche geologiche, erano necessarie maggiori risorse, loro le avevano utilizzate tutte come da bando e quindi avevano deciso di abbandonare il cantiere. Era intervenuto l'allora Presidente della provincia Pirovano per cercare, dicendo che sarebbe riuscito a persuadere l'azienda a rimanere e a trovare le risorse, ma questo non ci risulta, nel senso che poi Pirovano ha lasciato il suo incarico, a scadenza del suo incarico, e a quel punto abbiamo visto regione e provincia che hanno lavorato in parte in sinergia, in parte invece si sono un po' rimpallate le responsabilità, se metti i soldi tu li metto anche io, se li metti tu li metto anche io e quindi volevamo avere chiarezza perché per noi si tratta di un'opera fondamentale che toglie il traffico da un paese e può garantire e migliorare lo sviluppo di un territorio come quello della Valbrembana, tra l'altro oggi pomeriggio discuteremo anche di una mozione per portare maggiore turismo proposta dal Consigliere Bruni, e quindi quello che chiediamo noi è cosa intende fare regione Lombardia sul tema delle risorse, cosa intende fare per cercare le responsabilità perché mi pare chiaro ed evidente che ci siano delle responsabilità, non so se dei progettisti o di chi ha eseguito le opere, se i costi sono cresciuti e sono tornati ai guarda caso 68 milioni precedenti perché si parla di 24 milioni aggiuntivi che devono essere messi in quota parte 8 dalla provincia di Bergamo e se non sbaglio 16 per quanto riguarda la regione Lombardia e soprattutto quando l'assessore pensa che verrà inaugurata a questo punto l'opera che doveva essere finita, ricordo, entro la fine del 2014, rinviata entro febbraio 2015 e a questo punto è sicuro che non sarà aperta neanche in tempo per Expo e quindi quei marginali turisti che verranno per Expo e potrebbero frequentare la Valbrembana e quindi a quel punto non potranno usufruire di questa variante e dovranno contribuire ad intasare il traffico del Comune di Zogno. Grazie. Grazie, la parola per la risposta della Giunta, l'assessore Sorte. Trasparenza rispetto ai costi in più. Consigliere, questo problema non è solo suo, è anche mio. Tutto quello che si dovrà fare si farà per capire, tutto quello che si metteranno in campo, tutte le procedure per capire gli extra costi in più che ci sono stati. Anche se da quello che noi abbiamo già individuato è tutto documentabile perché durante l'esecuzione dei lavori si è trovata durante il percorso una situazione diversa rispetto a quello che si pensava. Per quanto riguarda, quindi sul tema trasparenza non ci giro intorno, anzi vigiliamo insieme, facciamo un percorso insieme per mettere alla luce eventualmente quello che non ha funzionato e per dare delle risposte concrete. E comunque stanno già lavorando gli uffici, hanno già lavorato, c'è una serie di documentazioni molto ben precise del perché questi extra costi in più che a mio avviso, dando un'occhiata, sono assolutamente motivati. Ci sono organi di controllo, ma ripeto, massima trasparenza su questi passaggi. Per quanto riguarda chi mette i soldi con una delibera, la Regione Lombardia, proprio 10 giorni prima che io diventassi assessore, ha stanziato 16 milioni di euro e la provincia con una sua delibera ne ha stanziati 7 milioni e 8, quindi per un totale di extra costi di 23 milioni e 800 mila euro. Per quanto riguarda invece il completamento dei lavori, a fine dicembre 2017 può essere una data realistica. Questo è quello che noi auspichiamo, ricordo come ha ricordato il consigliere Violi che stiamo parlando di un'opera importantissima e complicatissima sul territorio. Comunque la Regione Lombardia, così come ha fatto in altre situazioni, assolutamente ha un approccio di trasparenza totale, insieme anche alla collaborazione della provincia di Bergamo che ha sempre avuto un approccio di trasparenza totale. Ci sono delle motivazioni tecniche molto ben documentate e molto ben precise. Consigliere, rispetto alle sue perplessità, alle sue giuste richieste, io dico facciamo un lavoro insieme perché non c'è niente da nascondere ma ci sarà solo da vantarsi di avere chiuso un'opera così importante. Grazie, assessore Sorte. La parola per la replica al consigliere Violi. Sì, io ringrazio per la risposta. Sono un po' perplesso sul fatto che ci vorranno ancora tre anni pieni per consegnare quest'opera che è urgentissima per un territorio come quello della Valbrembana che vive delle difficoltà a livello economico non indifferenti dovute soprattutto alla carenza infrastrutturale. Sulla questione degli extracosti, non vorrei soffermarmi più di troppo, nel senso accolgo la volontà a parte dell'assessore di dare la massima trasparenza, quindi mi metto a disposizione e collaborerò per poter dare questa trasparenza. Io spero che però si vada anche a vedere chi ha progettato le cose e chi ha fatto delle valutazioni perché se una base di lavori parte a 68 milioni, si vince con un ribasso del 35% e poi si arriva al 60% dei lavori e servono quei 24 milioni mancanti che fanno parte del ribasso, forse sulle procedure qualcosa da rivedere c'è e anche su chi ha fatto una progettazione preliminare perché sicuramente i geologi non sono degli indovini e tutti chi non fa non falla e a chi lavora capita di sbagliare. Sbagliare per queste cifre, quindi quasi il 50% dei costi di un'opera nella valutazione geologica forse varrebbe la pena riflettere, mettere le mani su quella documentazione, interpellare chi di competenza e capire se ci sono state delle valutazioni sbagliate e a quel punto che non siano sempre i cittadini a pagare ma chi ha sbagliato e ha portato a degli extra costi così rilevanti contribuisca e non sia davvero la cittadinanza a dover rimettere come al solito i soldi su opere su cui soldi e non pochi erano già stati stanziati. Grazie.